il personaggio di maciste è un personaggio protagonista di storie maciste is italy super hero per salire da nervi a sant'ilario un uomo normale impiega tre quarti d'ora maciste vi sarampiche in un quarto d'ora tu di te non ti ricordi proprio niente tu ti chiami bartolomeo pagano questo qui che hai addosso è tutto un trucco sei un attore dopo caviglia poi si è diventato veramente uno dei grandi attori del cinema italiano io mi domando sempre come si erano riusciti a fare sì che uno scaricatore del porto di genova diventasse uno degli attori più famosi nel mondo in che porta lavoravo era al porto di genova quando ci lavoravi tu c'era tantissima gente che ci lavorava tanti canali come te questo è bartolomeo pagano pastorone and ita la film decided that they would film what we might call a spin-off tu ne hai fatti trentuno in tutto maciste was uomo forte and gentle giant grazie a tutti Grazie a tutti